Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video di news e nuovo video di aggiornamenti sul mondo dei videogiochi. Oggi torniamo a parlare di FIFA 15, il titolo calcistico di Electronic Arts. Proprio dall'Electronic Arts, ma più che altro dalla sua sezione sportiva, l'eSport FIFA Italia, canale Twitter, che arriva alla notizia dell'arrivo di un giocatore di una nuova leggenda all'interno del FIFA 15 Ultimate Team. Da oggi disponibile, sembrerebbe al momento solamente su Xbox, Franco Baresi. Ebbene, avete capito veramente molto bene, Franco Baresi, una vera e propria leggenda del calcio italiano, storico capitano del Milan, a proda su FIFA 15 Ultimate Team. Una caratteristica devastante per uno dei migliori difensori italiani, se non difensori della storia, 1,94 per quanto riguarda la statistica della difesa. Quindi avere Franco Baresi in FIFA Ultimate Team diventerà qualche cosa di fantastico e di fondamentale. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo arrivo di un giocatore storico all'interno delle leggende di FIFA 15 Ultimate Team. E se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sulla mia pagina di Facebook e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.